buongiorno oggi è e passerai la giornata tristemente sui banchi di scuola a scrivere 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 tutto il giorno vero no no spiega tu allora tata tata cosa farà oggi elena cosa farà oggi elena e dove al lago di campagna al lago di campagna che bello e le maestre faranno il bagno al lago ok ai pantaloni di corti si evviva la maglietta dell'unicorno mascherina rosa per pina rosa perfetto ci racconterai tutto ok cartella sei netto e si va e si va piccola agitante ci serve poi anche l'altra cartella doppia cartella ciao elena buona gita ciao ciao che tenerezza dopo due anni di pandemia la prima gita praticamente partono da scuola e vanno in un lago che sta qui vicino non so se faranno qualche cosa ma sicuramente solo il fatto di uscire stare insieme e camminare all'aria aperta è bellissimo la loro gita un bacio a tutti stiamo aspettando l'uscita di elena nel dopo gita dov'è dov'è eccola lì ciao ciao agitante ciao amore mentre ci racconti andiamo a prendere il gelato che non hai potuto mangiare ieri prima parte dell'intervista cosa è successo a queste ginocchia fa vedere oh ferite i wow perché quando si cade sono i segni dell'avventura elena sono ferite di gioco questi sono piccoli trofei di cui andare orgogliosi io sono sempre andata orgogliosa delle mie ginocchia sbucciate sono cose indimenticabili che poi te le ricordi da grande queste ginocchine che hanno camminato tanto e corso tanto meritano un gelato vero e allora andiamo aia per le ginocchia il piede a dobbiamo passare i sandaletti questo non mi fa male no no non è quello che si vede che avevo messo male il piede quando avevo fatto la vita senza vita ah ho capito ho preso ops gli occhiali cadono vediamo ma che bel gelatino eccoci qua questa cos'è una seconda merenda si fa cammino dopo il dolce un po' di salato per togliere il gusto dolce allora raccontami tutto di questa gita che avete fatto allora un pezzo di aver raccontato delle mie ginocchia wow 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 è vero come è successo racconta intanto come è successa questa avventura allora è tutto che devo mostrare i miei ginocchi mentre mangio probabilmente ehm questo va io non lo faccio vedere si ok camminavo tutta tranquilla eaah stavi camminando? si sto camminando oh ma e poi ti sei tirata su subito? no perchè avevo male al piede ah e chi ti ha aiutato a tirarti su? ehm ma ti dice una mia compagna ok e tu hai detto qualcosa quando ti sei tirata su? non avevo fatto male non hai detto niente? non avevo fatto male mamma lacrimoccia? pochino eh beh giusto non ho appena caduto eh scusa ci sta un attimino a giusto di te c'è lo sfondo di valeria piccola che aveva due anni e mezzo è gigantesca ancora ha fatto la sua e lì sopra vabbè ci mettiamo anche un vito di valeria quando era piccola allora poi dove siete andati? a piedi fino al lago? si e cosa avete fatto lì al lago? abbiamo i nostri pasticoli giocato poi c'era un cane e io stavo qui beh non sento perchè stai masticando ma hai detto il cane sta qua e noi siamo qua ok Massimo andiamo qua allora voglio giocare con voi no perchè non lo so perchè eravamo abbastanza lontani comunque cioè se ci mettevamo se ci mettevamo tanto a correre poi se il cane ci avrebbe visto magari correva anche lui ciao nico ciao senti ma a cosa avete giocato? abbiamo giocato cose però io non li potevo perché volevo dire oh ma a bandiera avete giocato? a rincorrervi? no abbiamo giocato allo sbarbiero ah lo sbarbiero non hanno giocato diciamoci e poi le maestre cosa hanno fatto? ferme sono state ferme ah ferme parlavano tra di loro? no con voi? controllavano la situazione ad un certo punto diciamo diciamo al nome della maestra mhm che volevamo che facesse qualcosa di non so perchè avevano fatto dei miei compagni avevano fatto delle ruote e abbiamo detto continuavamo a dire il suo nome per dirgli dai vai dai 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 volevate che facesse la ruota? volevamo che facesse qualcosa Sara si ah ok quindi dicevamo ma senti un po' Elena è una rispettosa della privacy senti un po' ma mi hai raccontato che è successo qualcosa alla tua scarpa e la maestra ti ha tolto la scarpa? cosa è successo? poi mi hai tolto anche il calzino ti ho tolto anche il calzino? oh io vedevo il mio piccolo piedino mentre Sara ispezionava e ha trovato qualcosa? io quando la maestra ispezionava va bene va bene anche Sara hai trovato qualcosa? ehm no no? niente e te l'ha pulito un pochettino? te l'ha scosso un pochettino? no non c'era niente ok poi hai rimesso il calzino e la scarpa? sì eh e il viaggio è stato lungo? no ai piedi ah ci credo siete andati e tornati a piedi siete tornati al cinocchio e quando siete torresi? ma non siete tornati a esso il cinocchio e sei arrivato adesso ascolta e il pranzo l'avete fatto a casa? eh scusami a scuola dove l'avete fatto il pranzo? in the school in the school sì ma domani per l'ultimo giorno di scuola che cosa mangerete a pranzo? pizza davvero pizza e a casa stasera cosa mangiamo? pizza e quindi tutta pizza a tutta pizza io domani non si sa forse milanese forse pasta non si sa e tutto e cosa vuoi fare? eh già allora che dici? saluti tutti vi auguro buone vacanze a tutti buona estate buone vacanze a tutti ciao 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 iscriviti al canale e cliccate su la campanellina E iscrivetevi anche al canale All'altro canale Cioè il diario di Barbara E dato che mi piace il video Bravo, sì, anche quello C'è tanto, ma proprio grande così Per mettere la campanella E guardare i nostri video Ovviamente se vi è piaciuta la mia Gitarella La mia gitarella E la mia gitarella E buona estate a tutti Buona estate a tutti Ciao Ciao Da quale iniziamo? Il trancio? Carrellata Va bene, possiamo mangiare Ciao